Musica Bravola scoppolata, ciliegia spiaccicata, lampone pressato Il nuovo Real Red è arrivato! Incredibili frutti, brossi di succo, io frici butto, e tu? Nuovo Mega Big Bob in Real Red, mostruosamente succoso! Che cosa rende queste canzoni pop tra le migliori che siano mai state registrate? Queste sono canzoni Electro Pop! Mega successo, con l'energia del sintetizzatore che li fa riconoscere immediatamente e li rende senza tempo! Non puoi più comprarli singolarmente, ma finalmente sono tutti raccolti in una collezione che si chiama Electro Pop! E questi sono 60 dei migliori elettro successi su 4 CD o cassette, per quasi 4 ore di ascolto! Ma non troverai Electro Pop nei negozi, devi ordinarla per telefono! Telefona subito, per avere la tua coni! Alla Inside, abbiamo grande orecchio per grande musica! Ehi ragazzi, l'appuntamento è per domani, alla stessa ora, su JTV! Ciao! Ciao! Ciao!